Benvenuti all'Angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Il cognome delle donne di Aurora Tamigio. M di Maraviglia. Oggi è un giorno che piove e tira vento. Di solito a giugno, in questo stesso periodo, si va già a mare e si puliscono le sarde per cuocerle sulla brace accesa in cima alla terrazza. Ma oggi non è cosa di mettere il naso fuori. Il cielo è pesante come cemento e le nuvole fuggono rapide verso la fine della terra. Dove si accatassano una sull'altra, sempre più grigie. Selma è a letto. Sta coricata già da qualche tempo. Rosa le porta da mangiare brodo di pollo e latte. Le uniche cose che riesce a digerire. Da qualche tempo si è fissata che a cucinare per sua figlia ci pensa lei e solo lei. Già prima guai a chi si avvicinava senza permesso alle sue pentole smaltate e ai coltelli con le lame di spagna, custoditi tra stipi e cassetti come medaglie al valore. Ma adesso fa come una pazza se le spostano la padella sul fuoco o le mescolano la zuppa. Tra i fornelli ci passa le ore e alla fine il suo brodo è appetitoso ma così leggero che quasi non ha odore. L'unica cosa adatta all'appetito di Selma che è quello di una rondinella ormai. Aurora Tamigio è nata a Palermo e cresciuta a Milano. Successivamente dopo la laurea in storia dell'arte contemporanea ha studiato sceneggiatura cinematografica. Dopo aver lavorato come autrice freelance per il cinema oggi è copywriter e scrive per aziende del mondo della tecnologia e del design. Capore ed attrice del magazine di informazione cinematografica silenzioinsala.com e scrive cortometraggi. Il cognome delle donne, edito da Feltrinelli nel 2023, il suo romanzo d'esordio ha già conquistato un numeroso pubblico di lettori e di lettrici. Ha ricevuto tantissimi riconoscimenti. Premio Bancarella 2024, premio Io Donna 2023, premio John Fante Opera Prima 2024. Aurora Tamigio ha scritto una storia potente, autentica, una saga al femminile ricca di saggezza. Con la sua scrittura leggera, diretta e coinvolgente ci trasporta in un romanzo familiare che abbraccia il lettore già dalla prima pagina. Tre generazioni di donne raccontano il loro cambiamento in un'Italia che sta cambiando. Siamo in Sicilia agli inizi del Novecento e Rosa Romito è la prima donna che incontriamo. E' buona come il nome che porta, ma cresce con un padre violento tra botte e privazioni. Le è sempre mancato l'amore, un amore che lei incontrerà nel 1925 in Sebastiano Quaranta e sarà amore a prima vista. In Sebastiano Quaranta è un uomo buono e non è soprattutto violento. Scappa con lui, si sposano e insieme gestiscono un'osteria che diventerà un punto di riferimento per la gente che abita là vicino. Dalla loro unione nasceranno Fernando, che sarà un uomo buono e generoso, Donato che andrà in seminario, e Selma che diventerà una ricamatrice bravissima ma fragile e cagionevole di salute. Quando arriva la guerra, Sebastiano Quaranta deve partire e Rosa non si arrende di fronte alle difficoltà. Da donna determinata, forte e coraggiosa, crescerà da sola i suoi figli e non si sottrarrà mai al duro lavoro. Selma invece è una donna fragile e silenziosa che sposerà contro il parere della madre Santi Maraviglia, chiamato anche Santi di vetro per la sua pelle chiarissima. Un uomo bellissimo, di bell'aspetto, ma approfittatore, un inetto, tanto che diventato capo famiglia, sottrae l'eredità e si impone con la forza. Ed è a questo momento che cominciano i guai per la famiglia, ma a farne le spese saranno le figlie di Santi e Selma. Patrizia, delle tre sorelle la più ribelle, la vigna bella e dal fascino di un'attrice come Virna Lisi, e poi l'ultima Marinella, la preferita dal padre, che diventa grande ragazza negli anni Ottanta e sogna di studiare all'estero. Queste donne sono difficili da dimenticare, donne che si sono fatte da parte, che hanno subito, costrette a liberarsi di un peso non indifferente, di diverse cose, a partire dal cognome, ma che hanno votato anche per la prima volta subito dopo la guerra e hanno raggiunto una certa indipendenza. Nel romanzo emerge una riflessione davvero profonda sui cambiamenti generazionali e sul ruolo della donna. Cinque donne dai caratteri diversi accompagnano questa storia che sentiamo sempre più nostra. Sono rimasta molto affascinata dal rapporto tra le sorelle basato sul rispetto e sulla lealtà familiare, di certo un binomio indissolubile che aiuta nei momenti di difficoltà, aiuta anche a superare il peso di una ereditarietà familiare molto pesante e molto ingombrante. E allora non mi resta che augurarvi buona lettura con il cognome delle donne di Aurora Tamigio. Se volete seguitemi sul blog www.paginedautore.it oppure mi trovate su Facebook e Instagram. Buona lettura! Grazie a tutti!